Questa sera ho avuto il piacere di incontrare delle associazioni sportive del mio territorio. Penso che lo sport sia una palestra di vita. Lo sport ti fa crescere non soltanto fisicamente ma anche socialmente. Insegna a relazionarsi con gli altri in maniera sana ed è da acquisire lo spirito di squadra. Penso che sia possibile valorizzare le associazioni sportive e incentivare gli eventi e le manifestazioni per il nostro territorio.